Noto per Lucia, questa manifestazione musicale dedicata all'ARPA che vede quest'anno la ottava edizione. Non più una sola serata o un solo concerto, ma ben quattro. Il primo sarà ospitato dal luogo dove in questo momento ci troviamo, la Galleria regionale di Palazzo Bellomo. Verrà inaugurata il giorno 9 una mostra dedicata a Santa Lucia, che è stata fatta in collaborazione con l'architetto Susan, il direttore di questa galleria. Cairossi, insieme agli altri enti, ha deciso di omaggiare questa mostra molto bella con un concerto di Vincenzo Zitello, uno dei più noti arpisti italiani, aperto al pubblico, gratuito. Gli altri appuntamenti note per Lucia saranno il 10 e l'11 perso la chiesa di Santa Lucia alla Badia e il 12, la grande conclusione, in cattedrale. Dopo i primi vespiti di Santa Lucia, alle 21, vi sarà questo concerto. Fra gli altri, una curiosità, l'arpista, che si chiama Jones, è un inglese, è l'arpista della regina d'Inghilterra. Ed è un particolare perché, infatti, verrà accompagnato da un musicista che, oltre al clarinetto, suonerà anche il corno inglese. Quest'anno lanceremo una mostra d'arte sacra contemporanea. La mostra si intitolà Ars Lucis e si terrà, verrà ospitata, grazie all'intervento del Comune dell'Assessore Italia, all'interno della Galleria Civica di Montevergini, dal 19 di dicembre al 6 di gennaio. Le altre iniziative sono varie. Ci saranno le visite guidate all'interno della catacomba di Santa Lucia, per esempio, durante il periodo della venuta del corpo, come, ad esempio, uno splendido percorso che partirà dal Museo Polo Orsi, perché saranno fruibili in maniera stabile l'iscrizione di Uschia, la più antica testimonianza scritturale del culto dedicato alla nostra Santa Patrona, il Sarcofago di Adelfia. Tutte e due reperti archeologici, entrambe questi reperti archeologici, provengono dal sito catacombale vicino al Museo Polo Orsi, che è la catacomba di San Giovanni. Quindi si potrà percorrere sui passi di Lucia dal Museo Polo Orsi, la catacomba di San Giovanni, arrivare alla venerazione del corpo di Santa Lucia, presso la basilica di Santa Lucia al Sepolcro, e poi continuare in Ortigia il percorso, arrivando, passando per la cattedrale, la badia, dove è temporaneamente conservato la tela del Caravaggio e il seppellimento di Santa Lucia, e concludersi qui, dove ci troviamo, dentro la galleria di Palazzo Belluomo, con la mostra dedicata a Santa Lucia.